Un'antica tomba, risalente con molta probabilità al I o al II secolo d.C., è riaffiorata a Minturno nei pressi dell'Appia. Ha una forma rettangolare rivestita da tegole e la presenza di alcuni chiodi in ferro lascia ipotizzare che il defunto fosse stato deposto in una cassa di legno. Non presenta i canoni di una normale cappuccina, ma aveva per esempio come copertura superficiale dei coppi e delle tegole, che comunque sono sepolture abbastanza inusuali. Non si tratta di una scoperta casuale. La prassi infatti vuole che in quella zona, prima di concedere l'ok per la costruzione di una casa, debba esserci il parere favorevole degli archeologi. Questo è uno dei primi ritrovamenti così particolari, comunque riemerso in indagini preventive archeologiche, in quanto ci troviamo in una proprietà privata dove è prevista la costruzione di una civile abitazione, però siccome è sottoposta a vincolo, la zona viene preventivamente indagata archeologicamente sotto la direzione scientifica della sovrintendenza. Ai piedi del defunto è stato trovato anche il corredo funerario, costituito da sette ampolle in vetro, quattro integre e tre frammentarie, che hanno aiutato gli esperti a datare la tomba tra il primo ed il secondo secolo d.C. I resti scheletrici rinvenuti invece da una prima analisi lasciano presumere che si trattasse di un uomo. Da una prima analisi macroscopica è presumibilmente un individuo di sesso maschile e per quanto riguarda l'età possiamo dire che è un individuo adulto e di un'altezza approssimativa intorno al metro e cinquantacinque, che per gli standard dell'epoca è abbastanza comune. Una particolarità che possiamo osservare all'interno della sepoltura è che lo scheletro risulta fortemente compresso dalla pressione del sedimento terroso, che ovviamente si è fatto spazio all'interno della tomba a seguito della decomposizione della cassa linea e quindi del cedimento delle strutture fittili che vi sono intorno.